Un saluto ai ricercatori della Terra piatta, agli indagatori e smascheratori. La prospettiva è la curva immaginaria ed è facile capire come siamo stati raggirati per credere che viviamo su un globo rotante, quando invece ci siamo resi conto che la geometria della Terra a globo è la stessa della prospettiva dell'occhio umano. Nelle illustrazioni dei libri di testo di come si vedono le cose sul globo, mettono sempre l'osservatore da qualche parte in un cerchio che guarda in basso affinché la linea della vista sia tangente alla bordo del cerchio, così si ha la percezione di guardare in basso su una curva. Ovviamente più si va in alto, più si deve guardare in basso per questa curva. Tutto questo è semplicemente l'inverso della prospettiva dell'occhio umano e questo è il motivo per cui ci troviamo con i difensori del globo discutere con i terrapianisti riguardo alla percezione di abbassamento dell'orizzonte, ma in realtà è che se siamo su una sfera siamo sempre sulla cima di questa sfera e guardiamo direttamente in avanti. Ovviamente dall'illustrazione di questo osservatore sulla cima della sfera che guarda direttamente in avanti, comprendiamo che l'osservatore non vedrà mai la superficie e sembrerà che il cielo incontri la superficie del globo che curva in basso e distante dall'osservatore in tutte le direzioni, ma nelle realtà noi vediamo la superficie ed il cielo che appaiono incontrarsi all'altezza degli occhi nel punto di fuga della vista dell'osservatore o prospettiva. Sappiamo inoltre da esperienze personali e dalle osservazioni effettuate durante le nostre vite che vediamo gli stessi fenomeni quando osserviamo le linee parallele che vanno a finire dentro, in lontananza, come le rotaie del treno che sembrano convergere sulla linea del punto di fuga della prospettiva dell'osservatore o dal punto di vista. Inoltre vediamo le stesse cose quando guardiamo i lampioni che vanno in lontananza e qui vediamo abbassarsi anche il corridoio lungo che sembra convergere al centro del campo di vista dell'osservatore. Ma allo stesso tempo, se prendiamo una vista di lato di quello che l'osservatore sta guardando, sappiamo che la superficie o il cielo oppure il pavimento ed il soffitto nel corridoio in realtà non convergono mai. Un altro aspetto ridicolo di credere che viviamo su una palla è percepire che questa palla ha un sopra ed un sotto, mentre nella realtà sappiamo che una sfera non ha un sopra o un sotto, ha solo un limite continuo, anche se ci hanno ripetuto continuamente che il cosiddetto sopra del globo è inclinato con un angolo da qualche parte tra i 23,5 gradi e i 24 gradi. Ma questo è semplicemente un ulteriore rovesciamento della prospettiva per farci avere o percepire l'inclinazione sull'asse o la curvatura, prendendo la geometria della prospettiva ed applicandola sulla curvatura immaginaria della Terra a globo. Nel campo della fotografia è comunemente risaputo che la lente da 50 mm è quella più simile all'occhio umano, perché fornisce immagini che rappresentano quello che vediamo comunemente. Ancora una volta dobbiamo tenere a mente che paragoniamo ciò che l'osservatore vede attraverso i suoi occhi e di come questo può essere percepito dalla prospettiva di una terza persona la quale osserva di lato ciò che l'osservatore sta guardando dal suo punto di vista. È questo campo di vista che ha gli stessi angoli della geometria usata per descrivere che viviamo sulla palla rotante della Terra. Praticamente abbiamo due cose da tener conto in ogni campo di vista di chi osserva o quello che hanno le lenti di una fotocamera. Sia l'occhio umano che le fotocamere hanno lenti convesse. Per prima cosa abbiamo questo campo di vista che si espande in lontananza e poi abbiamo un restringimento di questo campo di vista con la prospettiva che fa sì che la superficie del cielo sembrano incontrarsi in lontananza per quanto lontano possano vedere i nostri occhi. E questa linea o punto di convergenza si trova sempre a livello degli occhi dell'osservatore. Non ha nulla a che fare con la presunta curvatura. Questo è semplicemente il modo in cui vediamo tutto quanto. Il punto al centro di ogni campo di vista per ogni osservatore è dove sembra convergere tutto quanto come le rotaie parallele del treno che appaiono convergere in distanza o dove la superficie ed il cielo appaiono incontrarsi o la fine dei corridoi è fino alla lunghezza focale degli occhi umani e le lenti da 50 mm o delle fotocamere hanno la stessa lunghezza focale degli occhi umani e la stessa angolazione del campo di vista. I diagrammi e le illustrazioni forniscono lunghezze focali ed angolazioni del campo di vista per le varie lenti e normalmente ci danno delle raffigurazioni fra i 45 e i 47 gradi per gli angoli dei campi di vista di una lente da 50 mm dipende dalla sorgente. Tutto questo significa che questo angolo da cui si espande il campo di vista della lente è un angolo di circa 45 gradi che si divide nel mezzo all'altezza del livello dell'occhio al centro della lente o dell'occhio. Allora se prendiamo questi 47 gradi e li dividiamo nel mezzo o li dividiamo per due otteniamo 23,5 gradi lo stesso angolo della presunta inclinazione della terra a globo. E questo è il motivo per cui l'inganno della terra a globo richiede due poli nord e due equatori con una differenza fra di loro di 23,5 gradi o l'inclinazione dell'asse. Ci hanno detto che c'è un polo nord dove puntano tutte le bussole così come c'è un vero polo nord geodetico che ci dicono essere il presunto asse di rotazione della terra la quale gira per creare la notte del giorno. Ci hanno detto anche che c'è un equatore eclittico che è parallelo alla direzione dell'orbita del globo terra attorno al sole così come un equatore celeste. E così quando si guardano le stelle all'orizzonte è l'equatore celeste che in realtà è il livello dell'occhio dell'osservatore e nuovamente la differenza fra l'equatore eclittico e quello celeste è di 23,5 gradi. Qui possiamo inoltre vedere perché una sfera o un cerchio è stato desiderato dai matematici per creare l'inganno del globo, ignorando la prospettiva, per rimpiazzarla con una curva immaginaria. Nessuno ha mai scoperto che la terra è un globo. Si tratta solo di una scoperta matematica, un modo per descrivere la terra come fosse un globo, ignorando o rimpiazzando la prospettiva. Un cerchio di 360 gradi può essere diviso in quattro parti, ognuno di 90 gradi, con i poli e gli equatori nel mezzo di essi. Se abbiamo una lente ad ampio raggio di circa 25 mm, essa può fornirci un campo di vista con un angolo di 90 gradi. Ovviamente quando facciamo questo abbiamo un orizzonte distorto o curvato, ma la metà di questi 90 gradi sono 45 gradi, che è lo stesso angolo del campo di vista che vediamo con l'occhio umano o una lente da 50 mm. Questo è il motivo per cui tutte le cosiddette prove dove ci dicono che viviamo su un globo usano osservazioni del cielo anziché in realtà misurare qualsiasi curvatura fisica o curvatura geografica sulla superficie della terra. Queste osservazioni che sono governate dalla prospettiva sono state rovesciate e ci hanno dato la parte di lato o una vista da Dio da parte dell'osservatore sulla terra a palla, ignorando e rimpiazzando la prospettiva con una curva immaginaria. E quando si arriva a spiegare come funzionano le stagioni sulla terra piana in opposizione all'inclinazione dell'asse responsabile del funzionamento delle stagioni sulla terra a globo mentre orbita il Sole, l'astronomia zetetica ci dice che il Sole fa un movimento a cabatappi o a spirale durante l'intero anno, trovandosi al suo punto più alto, circolando sopra il Tropico del Cancro il 21 giugno, l'estate al nord, per poi trovarsi alla sua elevazione più bassa facendo un cerchio più ampio sul Tropico del Capricorno in inverno, a dicembre. Così, per l'osservatore che guarda il Sole sulla terra piana durante l'anno, la differenza fra l'altezza del Sole o l'angolo di elevazione fra questi due periodi è di 23,5 gradi, mentre la meccanica di tutto questo lavoro rimane ancora un mistero per noi poveri umani su questa Terra disegnata intelligentemente. Questo in realtà ha molto più senso della nozione del globo di una Terra rotante che orbita il Sole in un'orbita ellittica, anziché posizionare la Terra più lontana dallo Sole durante l'estate e più vicina al Sole durante l'inverno. Se siete nuovi su questo argomento, spero che questo vi porti a capire che tutto quello che pensiamo di sapere sul modello eliocentrico è semplicemente un'interpretazione di quello che vediamo nel cielo e che la geometria usata per farci immaginare la curvatura sulla Terra piana è semplicemente un'interpretazione della prospettiva. La prospettiva è la curva immaginaria. Grazie veramente. Grazie mille. 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 Grazie mille.